di ragionare di effettuare nell'arco dei 90 minuti regolamentari almeno un tiro pericoloso verso la porta avversaria e pensare che per 50 minuti circa i grigi hanno potuto disporre di un uomo in più a causa dell'espulsione dovuta a somma di ammunizioni dell'empolese tricarico già il campanello d'allarme era suonato nel primo tempo dell'incontro di domenica scorsa con il modena poi l'ingresso in campo di mariotto aveva dato raziocinio alla manovra grigia ad empoli il capitano c'era ma nel marasma generale nemmeno lui è riuscito a salvarsi motta ha schierato sin dall'inizio una formazione votata all'attacco con sacchetti sulla fascia destra memmo a riete centrale si fa per dire e fresta a scorazzare in lungo in largo per tutto sul campo vivani a cercare di dettare l'ultimo passaggio poi mariotto il geometra a centrocampo per far ragionare la squadra avallone ha svolto ancora una volta il compito del terzino mentre gutili cercava di dare un aiuto in mezzo al campo a mariotto insomma una gran confusione che è sfociata nella terza sconfitta esterna su tre gare disputate il tecnico brianzolo al termine della gara ha scaricato tutte le colpe sui suoi ragazzi rei di non rispettare le disposizioni da lui in partite non ci sentiamo di condividere pienamente tale affermazione la squadra non ha un gioco proprio e vive sugli sprazzi individuali stenta a raggiungere la porta avversaria e quello che preoccupa maggiormente di cui non ne abbiamo ancora parlato è la difesa vale a dire il reparto su cui si pensava di dover fare maggiore affidamento sarà un problema di condizione di preparazione di adattabilità a certi schemi insomma qualcosa deve essere rivisto e prima che sia troppo tardi ebbene farlo subito se qualcuno si sente declassato o male sfruttato ebbene dirla per tempo nessuno a priori impone di far indossare la casacca grigia ad alcuno ma per coloro che hanno la fortuna di vestirla e bene vantarsene al momento non conosciamo le decisioni che intende prendere la società ma gino misano comunque dovrà scendere in campo per farsi sentire da tutti giocatori compresi si è cercato di creare un giocattolo perché distruggerlo anzitempo ed ora passiamo alle note di cronaca passano solo due minuti e l'empoli è già in vantaggio martuscello allunga in corridoio per balesini il quale è lesto ad insaccare in diagonale alle spalle di un esterefatto toccafondi l'alessandria non reagisce tentenna balbetta è già colpita irrimediabilmente al decimo su angolo battuto per l'empoli è fortunato toccafondi a trovarsi la palla tra le mani sulla deviazione di martuscello l'empoli insiste e l'alessandria ha una timida reazione al 32esimo e sacchetti dal limite a tentare di impensierire balli ancora in evidenza toccafondi al 36esimo che riesce a mettere in angolo una gran bordata calciata da birindelli al 41esimo l'ottimo direttore di gara lo stesso dello scorso anno di monza alessandria terminata 5 a 1 per i brianzoli espelle per doppia munizione il focoso tricarico al 43esimo vivani pure lui in ombra tenta la sorpresa dai 30 metri senza peraltro impensierire balli un minuto dopo fresta appoggia in area per memmo la cui deviazione non è sufficiente per sorprendere l'estremo toscano nella ripresa nonostante gli inserimenti di venturi bello e giraldi l'alessandria non arriva mai alla conclusione ed è questo anche il motivo per il quale sosteniamo che si prendano provvedimenti ancora in evidenza i padroni di casa al 15esimo con balesini che supera facilmente pascucci deludente la sua prestazione ma non tocca fondi che blocca terra con una mezza prodezza nei rimanenti minuti di gara motta le tenta tutte ma il risultato non cambia anzi sono i padroni di casa al 41esimo a raddoppiare sacchetti cincischia sul limite il pressing dei toscani porta palla a bonfanti il quale con un delizioso pallonetto beffa l'incolpevole tocca fondi entusiasmo tra gli azzurri dell'empoli mentre tra i gridi serpeggia anche un po di nervosismo pochi vogliono parlare preferendo il